adesso carciofo alla romana in un pentolino mettiamo alio e olio mentuccia romana e prezzemolo tritiamo tutto bene e andiamo a farcire i nostri carciofi massaggiamo bene perché deve entrare condimento dappertutto più li mettiamo più buono viene ricordiamo anche sale e pepe compriamo con carta paia e mettiamo sul fuoco spettacolo